L'Ufficio Immagine della Città, che si occupa di questioni relative al decoro urbano, ha eseguito un sopralluogo alla statua della Puporona di Piazza San Salvatore e alla statua dei Puccini in Piazza della Cittadella, a seguito degli atti vandalici delle scorse ore. Dopo le consultazioni necessarie con la soprintendenza, già martedì mattina in Piazza della Misericordia sarà montata l'impalcatura per effettuare una precisa verifica del danno e possibilmente procedere all'operazione di pulizia della statua. L'intervento più complesso si prospetta proprio quello della statua della Puporona, essendo il marmo un materiale poroso che assorbe le sostanze imbrattanti. Già pulito, invece, il volto della statua di Giacomo Puccini, che essendo in bronzo non ha assorbito i pigmenti.